Nella notte di mercoledì 5 giugno, intorno alle 2, è scattato l'allarme al distributore Tamoile di Frazione Sant'Antonio di Castellamonte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castellamonte e i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea. I vigili del fuoco sono stati chiamati per via del fumo. Un'automobilista di passaggio ha pensato si trattasse di un incendio e ha lanciato l'allarme. Giunti sul posto hanno invece visto che i ladri, per inibire le videocamere di sorveglianza, avevano utilizzato dei sintori causando così fumo. Indagini in corso.